Ciao a tutti, sono Vittorio Mozzi, consulente commerciale Volkswagen Bonaldi, Gruppo Eurocar Italia e oggi sono qui per parlarvi dei tempi di ricarica di un'auto elettrica. Se parliamo della ricarica da casa, ti basterà utilizzare il cavo fornito insieme all'auto in grado di assorbire dalla presa domestica 2,3 kW e caricare tranquillamente tutta la notte. È interessante sapere che pur percorrendo 90 o 100 km ogni giorno, ti basteranno 5 ore e mezza di ricarica domestica per caricare al 100% la mia auto elettrica. Se a casa già disponessi di un impianto da 7 o anche 11 kW, tramite l'installazione di una wallbox, potrai andare ad accorciare notevolmente i tempi di ricarica, andando a raboccare la stessa percorrenza in autonomia in poco più di un'ora e mezza. È interessante capire come in poco più di un'ora si possono già caricare almeno 100 km di autonomia comodamente la casa, che sono molto superiori alla media italiana di percorrenza giornaliera, che si attesta attorno ai 40 km. Per chi non avesse modo di caricare la propria macchina direttamente da casa o nel box, basterà fare affidamento alla vasta rete di colonnine ubicate nella propria città, come questa che ho a fianco, in grado di caricare la macchina più o meno velocemente in base ai kW in grado di fornire. Per esempio, una colonnina di questo genere in corrente fast charge è in grado di caricare i 100 km che accennavamo prima in soli 8 minuti. Sul sito Volkswagen e nel link che vi lasciamo in descrizione troverete una mappa dove è già possibile consultare le colonnine presenti nella vostra zona, vedendone la potenza di carica e in tempo reale se sono libere o occupate. Inoltre troverete un simulatore di costi e tempi di ricarica. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!